Una cerimonia per ricordare Salvatore Barbaro, vittima innocente di Camorra. Sabato 13 novembre alle 11, Salvatore sarà ricordato in via Mare ad Ercolano, proprio nel luogo in cui gli fu tolta la vita. È l'iniziativa della Fai Antiracket Ercolano per la legalità, a distanza di 12 anni da quel tragico 13 novembre 2009. Salvatore Barbaro era un giovane di Ercolano, estraneo agli ambienti della criminalità organizzata, ucciso per un errore fatale. La sua auto era dello stesso tipo di quella utilizzata dal boss, destinatario della spedizione di morte. L'omicidio avvenne in un contesto di particolare tensione tra i vari gruppi camorristici che si contendevano il territorio, con oppressione, condizionamento, violenza e paura. Grazie alla fiducia nelle istituzioni, alla ribellione dei cittadini e dalla sinergia tra tutte le forze in campo, quella stagione è ormai alle spalle. La Fai Antiracket è impegnata costantemente nel diffondere la cultura della legalità, invitando alla denuncia, assistendo le vittime e tenendo viva la memoria degli innocenti caduti per mano della criminalità. Sin dal primo momento ci siamo stretti alla famiglia di Salvatore Barbaro, esprimendo la nostra vicinanza e la nostra solidarietà nel percorso di giustizia e partecipazione.